It's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good good night Massimo, ben ritrovato Il professor Antonucci, è vero che abbiamo scelto Il professor Antonucci mi ha ricordato, guarda che il Tangora ha fatto due gol al Modena Non solo, ma l'ha fatto da terzino, perché non è un attaccante il Tangora Massimiliano, in quel campionato, fece tre gol E abbiamo anche delle immagini, credo, dei gol Possiamo far vedere le immagini dei gol col Modena, giusto? Abbiamo le immagini della doppietta contro il Modena Massimiliano, ti ricordi queste immagini? Primo, come lo fai? Di testa, no? Di piede? No, di piede E questo è il gol? Sì, sì, è questo Era l'1-0 Controbalzo 20 metri 20 metri, ma soprattutto palla molto tesa all'angolino È imparabile per il portiere Poi ci divertivamo un po' nelle... Penso che è quello che volevo sottolineare io Quando sento che c'è la gente che chiama, telefona e dice Ci vuole quello alto, c'entra avanti, ci vuole quello a la torre Quando noi tenevamo fronte e tovaglieri che non erano di 1,61 E abbiamo fatto malanghe di golla facevamo No, di fatti... Questo è l'altro gol? Sì, questo è il quarto Un pasticcio colossale della difesa Fini 4-0 4-0 E un importe del portiere Il primo e il quarto Il primo e il quarto E poi segnato ancora con la maglia del Bari? Sì, nel derby con l'Andrea Con l'Andrea Vediamo se ci sono le immagini Comunque questo è un pasticcio enorme da parte dei giocatori del Modena E tu fai un gol quasi da opportunista Sì, perché ero partito in contropiede Quindi avevo seguito l'azione Vedendo il portiere che... Stavo scendo in maniera... Stavo scendo in maniera un po' azzatata Bello che sarà l'allentatore, eh? Infatti abbiamo rivisto il gol Questo era un gran bari comunque Vediamo Tovaglieri, vediamo Barone Vediamo Giopaolo, tanta roba Giopaolo tornava dall'infortunio Del Perone, Tibi e Perone Quindi la coppia d'attacco era Protti, Tovaglieri con Joao come terza punta addirittura E c'era Angelo Alessio, Gautieri Uno squadrone, non a caso andaste poi in Serie A Con questa miscela fra, diciamo, giovani e meno giovani Sì, perché eravamo un gruppo misto Fu il mix giusto perché Io insieme a Emiliano, Bigica, Lorenza Moruso Amedeo Mangone, Gianluca Ricci Eravamo tutti, tranne Ricci e Mangone Eravamo noi in prestito Ancora i baressi che giocavano insomma Un giro per l'Italia Questo è il gol di Pedone, giusto? Questo è il gol di Pedone Di Ciccio Pedone Vi eravate fatte le ossa nelle categorie minori E tornaste già belli temperati per giocare Un fantastico campionato di Serie B Beh, in effetti a quei tempi era quasi una consuetudine Anche perché il livello delle categorie era un po' più alto C'era molta più qualità In Serie C trovavi veramente dei marpioni La Serie C di 20 anni fa Gianni, era consuetudine questa Di mandare i ragazzi a giocare Nei dintorni o nei campionati minori E poi riprendersi al Bari Che erano già pronti per giocare In una categoria più alta Ricordi che insomma era una prassi questa? C'è stato qualcuno Per esempio c'è stato Dentuti C'è stato Caldarulo Che da terzino aveva giocato anche nelle cosiddette Lui ci si chiamava il campionato che girava per la provincia Naturalmente abbiamo avuto anche recentemente Giovani come Ventola Come Santo Ruvo Anche se Ventola ha giocato sempre nel Bari Sì però veniva Allora prendiamo ad esempio il Caputo Che viene da una squadra di Altamura Caputo si può dire che non è cresciuto Nei ragazzi, nelle giovanili del Bari Esistono tanti di quelli Ma soprattutto in passato Negli anni 30-40 era così Del resto quando noi andavamo a prendere Ragone era uno che era venuto dall'estero Si era sposato a Bari E l'abbiamo cresciuto noi Non è venuto fuori dal vivaio Diciamo così Allora facciamo così Proiettiamoci verso la partita di domani Verso Bari-Modena Che peraltro è un classico No anche perché dobbiamo riscattare Non il 4-0 che ha segnato i due gol Ma quello che è stato l'anno scorso Il 4-0 sbagliò un rigore Anche Galano Se la mia memoria non mi tradisce Ma c'è di più Che proprio da quel 4-0 Venne la Come dire Svolta La svolta La eccezionale svolta Di due mesi e mezzo Come ha ricordato Chaudone Non so se è che qua Noi non dobbiamo divendicare Come stavamo messi l'anno scorso Di questi giorni E quello fu il punto più basso Quando perdiamo 4-0 a Modena Allora sentiamo cosa ha detto oggi Il collega Di Massimiliano Tangorra Devis Mangia Perché Massimiliano Nel frattempo Ha intrapreso la carriera dell'allenatore In questo momento Allinei giovani Della Nick Ma chissà Puntini in sospensione Però vediamo cosa ha detto Mangia Alla vigilia della partita No no Dico una cosa sola Visto che Il gossip Penso che sia esaurito L'abbiamo esaurito in questi giorni Parliamo un pochettino di pallone Mi suggeriscono che il Modena È un'ottima squadra Che ha fatto Un ottimo campionato L'anno scorso Con un'identità Ben definita E che Sta continuando Sulla stessa linea Anche quest'anno È una squadra molto solida È una squadra Che ha dei giocatori importanti Da Granosce E Più tutto il resto È una squadra Di Di livello E che io all'inizio dell'anno Quando ho fatto qualche nome di squadra Ho messo anche il Modena in questo gruppo Perché sono convinto Che è una squadra Che farà un campionato importante Sì no ma poi Io penso che per quanto riguarda noi È un discorso anche di Siamo dei momenti Siamo dei momenti dove Dove Produci E segni I momenti dove Produci poco E segni tanto In funzione del numero Di occasioni create O dei momenti come questo Ma questo non Non mi preoccupa Nel senso che noi Dobbiamo andare avanti Sulla Sulla nostra strada Loro è sicuramente Una delle loro caratteristiche È che è una squadra solida È una squadra che prende Che prende pochi gol Quello sicuramente Quello è un aspetto Che è una caratteristica Che aveva anche Modena È una squadra Con quel tipo Di caratteristiche Diciamo nella fase Di non possesso No no ma I tifosi I tifosi come ho sempre detto Sono una Sono una risorsa E sono liberi Ci mancherebbe altro Di esprimere la loro opinione Io sinceramente Dal punto di vista Dell'atteggiamento Dell'intensità Della voglia Io ripeto Quello che ho detto Dopo la partita Perché l'ho rivista E gli dico Che la squadra Ha fatto bene Ma noi dobbiamo Mantenere il nostro equilibrio E andare avanti Sulla nostra strada E cercare di dare Le soddisfazioni Che abbiamo sempre detto Che merita Questa piazza E noi stiamo Però vi assicuro Anche che stiamo Lavorando Con tutte le energie Disponibili Per andare in quella direzione